Salve a tutti, sono il dottor Temari, farmacista esperto in fitoterapia. Abbiamo visto che è un lieve stato infiammatorio cronico, subclinico, quindi non vi parlo di quell'infiammazione acuta, forte, violenta, che ci dà dolori, rossore, quindi questa infiammazione, ma un'infiammazione subclinica, cronica, che va avanti nel tempo, sostenuta da N fattori, come ad esempio il sovrappeso, come ad esempio eccessi alimentari, quindi eccessi ipocalorici, un'alimentazione sbagliata, quindi decidere di introdurre quotidianamente la carne rossa, gli affettati, il glutine che oggi è modificato geneticamente, la caseina, farmacin cronico, additivi chimici e tanto tanto altro, anche lo stress mettiamo dentro, tutto questo va a favorire l'innesco della comparsa di malattie croniche, malattie croniche con le quali ci confrontiamo oggi, quali possono essere il diabete, l'ipertensione, l'ipercortisolemia, l'ipercolesterolemia, malattie autoimmuni, problematiche di infiammazioni intestinali, quindi poi la disbiosi intestinale, e tanto 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 altro. E allora un'idea è stata quella, a un certo punto, in un certo momento storico, di utilizzare antinfiammatori come farmaci per andare a prevenire queste malattie croniche. Andiamo a prendere in esempio le malattie cardiache, quindi l'infarto. A un certo punto si è scoperto che l'acido acetilsalicilico, basse concentrazioni di questa molecola chimica, riuscivano a ridurre l'insorgenza dell'infarto. E allora nel 1989, venne fatto un grande studio, Health Study, prese 22.000 medici. 22.000 medici, i quali si sottoponevano a questo studio, hanno iniziato a utilizzare tutti i giorni, basse concentrazioni di acido acetilsalicilico. Inizialmente venne fatta una scrematura, perché alcuni di questi presentavano immediatamente alcuni effetti collaterali, da qui si capì a chi si poteva dare l'acido acetilsalicilico e a chi no. Lo studio andò avanti, i medici in questione furono divisi in due gruppi, il gruppo placebo, che non prendeva assolutamente nulla, e il gruppo studio, che in realtà utilizzava l'acido acetilsalicilico a basse concentrazioni. Lo studio poi venne interrotto, perché è vero che questi medici non andavano incontro all'infarto, ma si ammalavano di altre patologie, come ad esempio l'ictus, o patologie emorragiche in senso generale. Ricordiamo che l'acido acetilsalicilico è un antiaggregante. E come questi altri farmaci, come ad esempio il cortisone, che è un più potente antinfiammatorio che conosciamo, va a generare problematiche metaboliche, ci predispone verso l'obesità, o ad esempio i FANS generano una forte tossicità epatica. Quindi l'idea sicuramente non è quella di fare come ci pare nella nostra vita e utilizzare dei farmaci antinfiammatori per prevenire tutto questo, ma andare a modificare determinate abitudini. Grazie dell'attenzione e seguite i miei consigli. Ciao!